Sì, sì, aspetto lei. Possiamo iniziare. Buon pomeriggio. Lanza ti chiede, in estate sembravi destinato a lasciare la Roma, cosa ti ha spinto a restare? Rispetto al passato senti maggiormente la fiducia dell'allenatore? Anza ti chiede, in relación con l'anno, se facciamo una comparazione, hai una grande confianza con la sede, perché hai momenti con la sicurezza di lasciare la scuola? Sono molto felice di essere, di essere parte di questa squadra. ovviamente tutti conoscono la mia situazione da l'anno scorso, che ho venuto a Feyenoord questa settimana ho venuto con un'opinione che ho potuto giocare e ora in la prima settimana ho avuto molti giocatori dopo aver fatto un'injurio e ora sono tornato con il team ovviamente ho dovuto migliorare ma sono molto felice di essere qui Sì, sono molto felice di essere qui alla Roma e di far parte di questa squadra tutti conoscete la mia situazione lo scorso anno sono stato in prestito alla Feyenoord quest'anno sono tornato con la convinzione di poter giocare in effetti nel precampionato ho disputato diverse partite poi ho avuto un infortunio adesso sto meglio sono tornato con il gruppo evidentemente devo ancora migliorare però ecco sono sicuro di poter far bene e continuare così sono molto felice che sono in Roma La Gazzetta dello Sport ti chiede è più difficile giocare sapendo sempre che c'è una concorrenza a tre per una maglia? No, ovviamente non. Se giochi per un club come Roma è normale che hai due o tre difendenti nella tua posizione. E' quello che mi piace del futbol, perché devi lavorare ogni giorno davvero molto difficile e ti mostrerai. E' meglio se sei con due o tre persone nella stessa posizione che sei l'unica. No, assolutamente. Quando si gioca per una squadra come la Roma è normale che ci siano due o tre giocatori che ti contendono lo stesso ruolo. E in effetti questa è una delle cose che mi piace del calcio. Quella di doverti sempre mettere alla prova di doverti sempre dimostrare qualcosa. E poi è sempre positivo per la squadra che ci sono delle altre alternative nella stessa ruolo. Il messaggero ti chiede Ha definito la sua prima esperienza alla Roma scioccante Dichiarando che c'erano allenamenti in cui non si parlava con nessuno Venivi lasciato solo La situazione è cambiata? Se sì, come? Se non mi parla, non mi parla Ma non mi parla, ma non mi parla Ma non mi parla Ma non mi parla Ma non mi parla Ma che ho spavuto 15 anni per la squadra È veerto da un team E farlo con un po' E farlo con noi E farlo con noi E fare tutto con noi Ad esempio, sono un Credo che ci sia stato anche qualche errore nel riportare le mie parole qui in Italia. Ero tornato al Feyenoord, stavo facendo la mia prima intervista, evidentemente non ero contento del fatto che avessi lasciato la Roma. È vero, ho detto qualcosa, ma sostanzialmente mi sono limitato a dire che per me, giovane calciatore olandese alla prima esperienza all'estero in Italia, non era facile trovarmi in quel tipo di contesto, mentre evidentemente era molto più facile, mi sentivo molto più a mio agio tra connazionali, parlando la mia lingua, con i compagni, mangiando con loro, allenandomi insieme a loro. Però ecco, semplicemente ho detto soltanto questo e oggi invece le cose sono diverse e come già ho detto sono felice di essere qui. Grazie a tutti. 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 Rene sono un Messioponeista apprendeche il quattro ucleo. Covid è popubo il Gronom pedico. Romma immago il fixtureo che fatti ma cattro. Stravami ma Gesù 중요한' Guide. Svegeno che gra gli adulti lo padano. Malpi successi. Questo' Vocat permiteuperazione al cor 번 di un presto dobrato. Cattro cattro paese. essa tecnolo Allo ci sono minuti e il intellismo su parte di tali. di tutti i futbolisti. Grazie a tutti. Se avete avuto molte injurie in questi ultimi anni, allora pensate, cosa posso fare, magari è meglio andare ad un altro club o non, ma in fine, io sono un giocatore di Roma, voglio mostrarvi tutto, ciò che posso fare, e ho parlato con loro. Sì, ho parlato con loro, è stato un buon incontro. Io voglio pensare e ragionare su cosa è opportuno fare, se magari non sia il caso di cambiare aria. Invece, ecco, sono contento di essere qui alla Roma e, come dicevo, voglio dimostrare quello che è il mio valore, quello che posso fare per questa squadra. Rispetto all'incontro con i Friedkin, si è vero, ho parlato con loro, è stato un bell'incontro, un bel colloquio. Voi, per la question di Radio Sport. È molto vicino ad adorare di TALANTA e Genoa. Cosa vi accara così da se accage a di подписare a договорi con loro? È vero che è che è rimanato con Fittkin? È che è rimanato da stai travmi, quando un'unico è in un'unico, si è in un'unico, si è iniziato a dare altri varianti, per essere realizzato in altre partenze e per si pensi che si può essere cambiato l'obstanza ma o di più o inizia sono stato in Roma sono un fottologist e voglio dimostrare i quali i nostri quali in questo punto la mia con Fittkin è molto piensa Centrosono Sport ti chiede se stai lavorando tanto sulla fase difensiva Come ho pensato prima ho dovuto migliorare tutto ovviamente I'm never happy with myself also for example in Holland if I played a good game everybody said it in the newspaper in interviews but I'm never happy about myself and that's why I have to improve everything and especially in the defense and yeah I work really hard for that and also you have to continue every training every game and that's how important it is that you don't get an injury and I hope this year will be my year here come dicevo non è soltanto la fase difensiva devo migliorare sotto tutti i punti di vista inoltre sono una persona che non si accontenta mai non sono mai contento di me stesso voglio sempre fare di più anche quando disputo una buona partita magari ricevo degli elogi in Olanda non ci faccio troppo caso è vero devo migliorare forse in particolare la fase difensiva sto lavorando molto su questo è importante per questo avere una continuità cercare di giocare ogni partita lavorare duro in ogni allenamento e da qui l'importanza di restare lontano da infortuni e spero vivamente che questo possa essere il mio anno mi raccoglie in Holandia mi faccio come mi raccoglie mi raccoglie mi raccoglie che lavorai e con postoianza le cose che si tratta, si tratta di un'esterno davanti a una difesa a tre. Per me non importa perché se spieghi con quattro dietro, il giro vinger si tratta il ballo, poi puoi andare a full speedo e puoi fare lo stesso come quando sei con quattro dietro dietro. Ma con tre dietro, si tratta di più che con quattro dietro. Ma per me non importa perché con quattro o tre puoi attaccare. Non credo sia una questione di difesa a tre o a quattro perché sia a tre che a quattro per il terzino e per l'esterno è possibile comunque attaccare. È vero che quando si difende a tre probabilmente il terzino attacca di più, però è più una questione di come viene interpretato il ruolo e di possibile attaccare con tutte due sistemi. Grazie a tutti. abbiamo terminato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.